i numeri del femminicidio in Italia. Ebbene sì, partiamo col dire innanzitutto che la violenza di genere, la violenza sulle donne è ben più diffusa di quanto si possa pensare, non si riduce ai casi più drammatici che sono poi quelli del femminicidio. Secondo dati del Ministero della Salute, il 31,5% delle donne in Italia, nel nostro paese, è stata vittima di violenza, di violenza di genere, almeno una volta nella propria vita. Non si tratta dunque solo di casi sporadici e isolati. Un tema fondamentale quando si parla di vittime di violenza di genere è la questione della denuncia. Sono pochissime effettivamente le donne che poi denunciano la violenza da parte di un compagno, di un partner, di un familiare, di un uomo in generale. Se andiamo a vedere le vittime di femminicidi, le donne che sono morte per mano di un uomo, vediamo che solo nel 15% dei casi era stata denunciata precedentemente una violenza. Questi sono dati forniti dalla Commissione parlamentare di inchiesta proprio sui femminicidi. Va detto, non è sempre possibile naturalmente avere delle avvisaglie di una possibile violenza così feroce, però certamente il 15% è andato molto basso, che ci fa capire quale sia l'entità del problema. E poi c'è un altro fronte, un altro aspetto della problematica, cioè che anche quando effettivamente viene fatta una denuncia, non è detto, non succede sempre che la risposta sia pronta e sia efficace a sufficienza a salvare la vita di una donna. Infatti lo vediamo, sempre tornando su quelle che sono state le vittime di femminicidio, possiamo vedere che nel 35% dei casi erano già state adottate precedentemente misure di sicurezza nei confronti della persona che si è rivelata poi diventare l'assassino. E dunque misure di sicurezza che non sono servite. C'è uno strumento, un provvedimento che è stato preso nel 2019 contro appunto la violenza di genere, la violenza sulle donne, che è il cosiddetto Codice Rosso. Un insieme di leggi che appunto punta a cercare di far invertire questa tendenza. Vediamo che ci sono alcuni tipi di reato che sono stati proprio introdotti da questo codice che sono, grazie all'introduzione, calati nell'ultimo anno. Vediamo il passaggio della costruzione al matrimonio dal 2021 al 2022 in calo e poi vediamo anche il calo per un'altra tipologia di reato che è la diffusione di video sessualmente espliciti. Però c'è un altro tipo di reato che invece è aumentato nonostante tutto, cioè la violazione di provvedimento di allontanamento. Quindi anche di fronte a una denuncia da parte di una donna, anche di fronte alla richiesta di allontanarsi dal domicilio di questa donna in generale dai luoghi che frequenta, si sono verificate delle violazioni. Dunque anche per questo è necessario pensare a delle nuove misure.